scuola infatti lei deve essere il diritto non potrei essere alzato alzatemi che vi faccio anche di nero le cose alzatemi aspetta qua ma comunque hanno piaciuto alzatemi no non ci vuol dire che anche l'altra cosa aspetta faccio prima il nero si figa mi stai aprendo a metà aspetta ce l'ho bene ce l'ho bene da scala umana siamo qua siamo qua vai che si trova meglio cazzone c'è il cavallo basso dai non fai di negri ok aspetta ok senti un attimo fax life si stai giù dai ma lasciamo la stellina dai no la stellina viene di merda riprenditi le tue cose per esempio però pensavo di prendermi i rai ban tipo hai pensate blues brother? come quelli? no quelli tipo vecchio stile si che cazzo fa? tipo borrelli no è zitta vai zitta vai zitta vai zitta vai zitta dai cantiamo grondona è un po' piccolo forse oh oh con la sonda della chupac oh oh cazzoni forse è un po' piccolo tu come me chiamate cazzone quando sono andato a casa io ho anche la maglietta per farlo più poca adesso per la pasta per la pasta 1 ci facciamo fare la foto tutti insieme cosa? no ma no col puntino nero qua mi secondo me lo li fa cagare oh ricordatevi di coprire gli schizzi è giusto e con cosa devi pulire? con cosa li col blu eh no figa non mi viene tanto bene sai che meglio la sterisca mi riesco a fare esatto mi alzi se mi alzi mi riesco a fare è troppo spesso albi no alberto non ti alziamo ma sei tanto peso alberto si ma guarda che sta sprecando un batto di vernice solo su col punto non si può lasciare così ma sta bene anche così raro no dobbiamo usarlo anche per riposa in pace io vabbè si guardate io ci faccio la sterisca un momento hai piga un momento un momento